Il professore Pisciotta, giorno 4 alle ore 4, presenterà il libro presso la sala multimediale del comune di Balestrade. Sì, allora, intanto aspetto tutti per questo evento, occasione di intanto incontrarci. Durante tale incontro potrete appunto avere questo libro, Palermo liberata per mano normà nel Longobarda, che comunque racchiude tutti gli eventi dei cinque secoli di presenza musulmana in Sicilia, e con tutte quelle diatribe, tutti quegli scorci tragici che si ebbero in quel periodo. Quindi parliamo dall'827 fino al 1302-1305. Io vi prego di venire, perché questo è un momento nel quale possiamo anche con il costo di un caffè, penso che sia un messaggio molto diretto. Parliamo noi di un'invasione programmata dalle multinazionali, dalla massoniera. Ebbene, cerchiamo allora di riscoprire la nostra storia, la nostra cultura, i nostri fondamenti religiosi. Dico questo, lo dico non solo ai miei colleghi docenti, presidi, lo dico in generale anche ai sindaci, a tutti coloro i quali, intimoriti, intimiditi, forse non fanno più il presepe, hanno dimenticato le nostre radici cristiane. In merito a ciò, voglio anche far notare ai miei amici di destra, ma soprattutto a quelli di sinistra e agli atei, che i valori della rivoluzione francese, quindi libertà, uguaglianza, fratellanza, sono propri del cristianesimo. E così voglio fare ricordare ai miei amici di sinistra, quindi questo è il rivolto agli atei, rivolto ai miei amici di sinistra, voglio intervenire perché non è vero che facendo entrare in massa in Europa i musulmani noi ci liberalizziamo, è il contrario, noi importiamo una inciviltà medievale che vorrebbe riportarci indietro di secoli e ricordiamo che il nostro caro Marx nella sua scrittura e nelle sue fondamentali idee attinge dal cristianesimo perché il comunitarismo, l'abolizione della proprietà privata e il socialismo nelle sue varie fasi è un'idea di Gesù Cristo, quindi io vi chiedo a tutti, tutto l'arco politico, adesso e sinistra, di cercare di aiutarmi nel difendere le nostre radici culturali storiche e quindi interveniamo sulle sovrastrutture ideologiche perché appunto come la Chiesa e come le religioni hanno una serie diciamo di nuclei che sono ormai deragliati nell'abominio e questo avremo modo di parlarne durante questa presentazione del libro. Quindi nella tua opera Palermo Liberata c'è un po' di conflitto fra le diverse religioni che negli anni hanno caratterizzato il mondo? Certo, questa è una domanda meravigliosa. Benissimo. Ma voi vi immaginate quando tra poco interloquiremo con i nostri fratelli delle galassie sia quelle vicine, quindi pianeti vicini e distanti e lei si mostra questo signore che sarà certamente somaticamente differente da me e da lei e narra sa, noi abbiamo una religione nel mondo dove imbottiscono un bambino di tritolo e lo fanno saltare in aria perché devono diffondere questo culto e quello dice ma siete pazzi? Oppure lei dice noi poi ne abbiamo un'altra religione sì però non è che è aderente alle scritture sacre cioè al Vangelo abbiamo un'altra religione dove chi è che aderisce e diventa vicario vicario di Cristo per esempio deve rinunciare a tutti i bisogni fondamentali dello spirito dell'anima e del corpo dice ma che vuol dire? dice questo signore che potremmo chiamare alieno ma è un fratello di un altro pianeta dice no non può più amare una donna ma che dice? non può avere dei figli no ma non ci credo ma sì non può avere dei figli e poi chiaramente non può amarla non può amarla col cuore quindi con l'anima non può unirsi spiritualmente quindi avere un feeling mentale e neanche corporalmente dice no ma questo ma è veramente una vostra religione questa certo poi diciamo ci sono delle disfunzioni perché questo povero uomo essendo compresso nei suoi non bisogni nella sua evoluzione spirituale che è il completamento che è l'unione con la donna e poi giustamente gli insorgono delle devianze ah certo dice il fratello delle galassie ah queste sono le vostre religioni dice sì abbiamo queste le principali dove aderiscono miliardi di persone dice ma possiamo rivederle perché giustamente quello il signore delle galassie più lontane dice ma vi dobbiamo aiutare ma vi dobbiamo aiutare e quindi avremo anche modo in questa occasione di entrare nei principi teologici di queste religioni errate che poi non sono errate sono state reinterpretate modificate ad uso e consumo di gerarchie ecclesiastiche e quindi abbiamo modo anche di parlare apertamente di questi problemi che causano grandissimi dolori all'umanità guerre stragi è possibile ma è che ancora fate queste cose voi umani e quindi io vi aspetto giorno 4 alle ore 16 presso la sala multimediale del comune di Balestrate che si trova accanto il marina holiday è un resort vicino alla piazzetta grosso modo penso che tutti nel comprensorio sappiate dove si trova e con l'occasione appunto farò vedere la televisione mostrerà sia il mio indirizzo mail sia il numero di telefono perché perché è importante difendere la nostra cultura i nostri valori le nostre radici e in tale occasioni potrete con il solo costo di un caffè acquistare prenotare quelli che vedrete adesso vi manderanno in onda questi libri che abbiamo pubblicato nel passato e che appunto dedicati alla Madonna del Ponte a Santa Rosalia alla Madonna di Romitello e difendere la croce possono essere con appunto un niente a vostra disposizione saltando tutti i passaggi quindi saltando il passaggio della distributrice saltando il passaggio dell'edicola che tutto ciò ha dei costi noi possiamo offrirvi questi volumi a costo forse di meno di 2 euro e questo credo che sia il mio impegno nel diffondere i valori cristiani i veri valori cristiani la nostra vera storia e soprattutto dare impulso alle nostre radici che sono profonde sono meravigliose e quindi anche attività commerciali anche imprenditori anche sindaci possono aderire all'iniziativa con un piccolissimo contributo all'associazione che darà l'equivalente in copie di questi libri di ciò che voi preferite di ciò che voi credete sia più opportuno per la vostra comunità quindi concludo e quindi invoco sia le forze invisibili che le forze umane corporee quindi voi tutti a intervenire a venirmi a trovare giorno 4 gennaio alle ore 16 presso la sala multimediale del comune di Balestrate grazie